Siamo con Niccolò Mori che è presidente del consorzio turistico Sestri Levante in Bentrovato. Allora, cosa consiste il vostro consorzio? È un consorzio che nasce da oltre dieci anni e che riunisce ad oggi oltre 50 imprese locali che si occupano di turismo, quindi dai servizi, accommodation, gastronomia, esattamente, noi parliamo di Sestri Levante, quindi è un consorzio che farete con le imprese locali di Sestri Levante. Ecco, voi siete anche partner del Discover Italy e come avete vissuto questa crescita nel settore turistico di questo evento ma anche di riflesso della località di Sestri? Molto bene, chiaramente questo tipo di evento sposa perfettamente un po' l'oggetto sociale, il leitmotiv che spinge il consorzio turistico di Sestri Levante, quindi abbiamo sposato fino dall'inizio questa iniziativa appoggiandola e collaborando sempre in maniera crescente al successo di questo evento che è sotto gli occhi di tutti, come abbiamo visto in questa edizione. Le prospettive future del vostro gruppo? È un gruppo in crescita, abbiamo molti soci che si stanno aggiungendo, che vedono l'interesse a partecipare alle nostre iniziative e che quindi sposano il concetto dell'unione fa la forza. Benissimo, ringraziamo allora Niccolò Mori, auguriamo una buona stagione e ci vediamo il prossimo anno per questo evento. Un buon proseguimento. Grazie.